Una giornata prevedere all'opera le specialità della Polizia di Stato e un diario in regalo per avvicinare i ragazzi ai temi della legalità, della sostenibilità e del rispetto. Mattinata diversa per gli alunni della scuola di Canevoi di Pontanelle Alpi, scelta dalla Questura di Belluno come sede per la consegna del Il Mio Diario, l'agenda scolastica che da 10 anni la Polizia di Stato in tutta Italia regala agli alunni che nell'anno successivo frequenteranno la quarta classe, un modo per avvicinare i più piccoli ai temi importanti. Noi ci crediamo molto in quanto è un'idea che ha la finalità di tradurre in una chiave di cartone animato e in uno strumento che i ragazzi hanno a disposizione tutto il giorno durante l'anno scolastico, quei principi di legalità, di rispetto del prossimo e anche di tutela dell'ambiente che sono fondamentali per costruire i cittadini di oggi e di domani. Per catturare l'attenzione dei ragazzi la Questura di Belluno insieme ai colleghi dell'Unità Cinofile di Padova ha dato vita a diverse dimostrazioni sul campo. Le squadre cinofile hanno mostrato gli esercizi di addestramento dei cani e le attività dei ricercanti droga, mentre la Polizia Scientifica ha rilevato le impronte digitali di alcuni ragazzi e mostrato come si confrontano con quelle già acquisite. In questa maniera i nostri ragazzi comprendono che le forze dell'ordine sono un nostro alleato e quindi è importante per loro vedere come operano e capire perché certe cose vengono fatte e come vengono fatte in modo tale da poter magari in futuro sapere a chi chiedere aiuto e poter essere anche utili anche loro in prima battuta. Belluno è una delle 22 province in Italia, una delle due in Veneto o Semerovigo, dove è stato distribuito il mio diario, un'occasione per far riflettere sui temi della sicurezza, anche in quella che un tempo veniva definita un'isola felice. È importante che loro capiscano il loro ruolo all'interno del gruppo e che lavorino in gruppo e che stiano sempre insieme, che formino comunità. Non ci sono isole felici in Italia, ci sono delle situazioni più o meno gravi, ci sono delle situazioni già conclamate, anche di infiltrazioni mafiose, ma non esistono isole felici neanche in Veneto.